Si spacca la maggioranza di centrodestra e non è la prima volta. In Consiglio Comunale, al momento di discutere l'ordine del giorno presentato dai consiglieri Paolo Romano e Elia Serpetti, finalizzato all'allargamento del progetto SPRAR Battiti di Integrazione, sistema di protezione per il richiedente asilo e rifugiati, anche a tutela dei minori non accompagnati, sono riemerse le ruggini tra i partiti che compongono la sfilacciata maggioranza di governo. A favore dell'ordine del giorno, infatti, hanno votato i consiglieri di opposizione e con loro i rappresentanti di Forza Italia e l'Aquila Futura, la lista civica che esprime in giunta l'assessore alle politiche sociali Francesco Bignotti, il quale, già mesi fa, aveva annunciato la volontà di estendere lo SPRAR anche ai minori non accompagnati. Al provvedimento si sono opposti invece i consiglieri di Fratelli d'Italia e di Lega, oltre al capogruppo di benvenuto presente Daniele D'Angelo. Così l'ordine del giorno è stato approvato con 20 voti favorevoli, 9 contrari e un astenuto. I consiglieri comunali di Forza Italia, invece, hanno spiegato di aver votato l'ordine del giorno per una serie di importanti ragioni. Accogliere non vuol dire solo fornire pasti e alloggio, ma soprattutto investire le risorse stanziate per la formazione e l'integrazione al minore, hanno sottolineato i forzisti. Durissimo l'affondo dell'assessore e il debutato leghista Luigi Deramo, che dice Con un atteggiamento irresponsabile, Forza Italia ha deciso di mettere in grande abbarazzo il sindaco e l'intera maggioranza di centrodestra, le sue parole che pesano come macigni. D'altra parte, Paolo Romano, in fase di esposizione dell'ordine del giorno, aveva sottolineato come i fondi destinati all'allargamento del progetto SPRAR fossero già stati appostati in bilancio nei capitoli di riferimento, sebbene la decisione non fosse passata in giunta. Oltre queste ragioni si tratta dell'ennesima frizione tra Lega e Forza Italia, che in questi mesi stanno giocando una partita politica che va al di là della vita amministrativa e che attiene, piuttosto, agli equilibri di potere in seno della maggioranza, con lo sguardo rivolto alle regionali. Non proprio un bello spettacolo da vedere, a meno di un anno dalle amministrative.